C'è chi zappa, chi allinea i sassi del nuovo muro, chi impassa il cemento. In testa hanno il cappello alpino ed il loro è un lavoro, nulla di nuovo, senza stipendio. Lo fanno per il comune a cui si sono proposti per sistemare la strada in località Casicchie e da ostimo superiore Porta in Crelone. Un progetto vecchio di anni ma solo oggi, concesso dall'amministrazione Farisee. Noi abbiamo deciso di allargare questa strada che era una careggiata di 1,20-1,30 dove passavano solo i buoi perché ci sono anche dei terreni che dovrebbero venire coltivati e poter passare con un trattore o qualcosa. E anche una linea taglia a fuoco perché c'è parecchio bosco, in caso di incendio, di poter passare almeno con un pick-up con l'antincendio. Si è trattato di allargare la strada, togliere sterpaglie che invadevano la carreggiata, tanto da non consentire più il transito dei mezzi diretti a Cascine e Prati. Sette alpini per un lavoro quasi ultimato. Noi cogliamo questa occasione per ringraziare tutti i volontari, in particolar modo il gruppo Alpini di Ossimo Superiore che in questo momento ci sta dando veramente una grossa mano. Abbiamo messo mano a questa strada che era da tempo, che doveva essere sistemata e loro con tanta buona volontà hanno visto il momento di difficoltà, vuoi economica, vuoi anche per realizzare i lavori con il nostro personale in questo momento e si sono dati da fare. Una questione di praticità e sicurezza ma anche di opportunità perché la gente del posto e di turisti tornino a percorrere la mulattiera che dal punto di vista paesaggistico nulla invidia ad altri posti. La ricompensa degli Alpini sarà tutta lì negli apprezzamenti di chi tornerà dopo tanti anni a riscoprire vecchi percorsi. Noi se riusciamo a recuperare la benzina, se no è tutto gratuito, abbiamo il libro verde e lì segniamo le ore di volontariato che facciamo ogni anno e questo per noi è molto importante. Ossimo si sta distinguendo proprio in questi giorni per iniziative di volontariato volte su più fronti dal cimitero di Ossimo Inferiore al cimitero Vecchio, piuttosto l'aiuto per i progetti dell'offerta formativa della scuola elementare e tante altre cose. Veramente un grosso grazie a tutte queste persone che ci stanno dando una mano. C'è chi zatti?